Come si guarisce dal narcisismo? Beh, mettendosi in contatto con l'inconscio. Ad esempio per Jung l'inconscio è la matrice di tutte le potenzialità e possiede una sua funzione autonoma. L'inconscio ha intenzioni e intuizioni e pensieri, proprio come la mente conscia, ed è un fattore creativo e trasformativo della psiche. Però l'inconscio è dualistico, cioè contiene ogni aspetto della natura umana, la luce e la tenebra, il bene e il male, il sovrumano e il bestiale, il divino e il demoniaco. L'inconscio è come un forziere colmo di tesori, fonte di ogni ispirazione per noi, che dobbiamo appunto maturare un atteggiamento artistico verso la nostra vita, rendendola un'opera d'arte. Poi, essendo l'inconscio un sistema che si esprime con il linguaggio dei simboli, svolge anche il ruolo di correggere le predisposizioni della mente conscia, andando a compensare l'unilateralità dell'io, la sua miopia, inducendo nell'io una percezione più ampia, uno sguardo più ampio, immaginativo, quindi uno sguardo non razionale, immaginativo. Buona giornata.